Ragazzi c'è un riflesso, c'è speso anche dei soldi per fare questa cosa, vero? Baccando quello di mia madre, come ho detto? Signori? Con questa pistola qua? Come si chiama? Con questa qua, dei gattoni! Con questa pistola io uscirò a capitare le vibrazioni, i pensieri, l'energia del pubblico! L'energia? Sì, i pensieri! Lei praticamente va a leggere i pensieri delle persone, dell'energia del pubblico! Ma certamente, oggi con il metaverso e con l'energia artificiale, non siamo più chi siamo, non siamo dove andiamo, ma soprattutto quanto costiamo! È tutto chiaro! Tutto chiaro! E lei adesso punta questa pistola ad andare verso il pubblico e rileverà l'energia del serato! Vi faccio vedere! Sì! Lei è diffidente, eh? Non può sì! Io c'è il dici di terrori sterefatti e stai riferendo di terrori sterefatti! Cioè? Non so che cazzo ho detto, però vedi! Guardi, vi faccio vedere, vai! Poi dici che non ha ragione! Non funziona sta roba! Ci sono interferenze! Non sa perché! Ma non prende! È periodo strano, la gente in questo momento c'è una crisi, quello che vuole! La gente non ha dei miei pensieri, la gente non pensa bene! La gente non pensa bene? No! Però riproviamo allora, va bene! Dai, vediamo! L'aereo che decolla! Hai visto? Cosa ho visto? La gente malpensa! La gente malpensa, però io non mi fido lo stesso! Io vorrei che lei... Cioè, deve andare sulle persone direttamente! Voglio vedere se riesce a contare uno a uno! Tempo di Lucisala, Lucifero! È il tecnico...